Militanti di Casa Pound al lavoro questa mattina per ripulire la spiaggetta, spazio che costeggia il fiume Isarco da Ponte Palermo a Ponteresia. Meta frequentatissima dei residenti dei quartieri Don Bosco ed Europa Novacella, in questi giorni di grande caldo, ma che vive di una grande mancanza, i bidoni. La spazzatura, infatti, troppo spesso viene abbandonata ovunque, da persone incivili. Questa spiaggetta che è frequentatissima dai residenti è lasciata al degrado, è piena di sporcizia, comprese bottiglie di vetro, lattine tagliate, siringhe anche, e quindi abbiamo deciso di prendere iniziativa e di venire a dare una ripulita. Adesso avviseremo anche la SEA, visto che è la pulizia dell'argine di competenza loro, e dopo che abbiamo pulito le avviseremo di venire a portare via i sacchi della spazzatura che abbiamo raccolto. Un altro problema è la mancanza di bidoncini. Sì, i bidoncini per i rifiuti che ci sono da Ponte Palermo a Ponteroma, in questa zona qui da Ponte Palermo invece andando verso sud, sono totalmente assenti. Stamattina abbiamo presentato un'interrogazione alla circoscrizione di Don Bosco per far mettere i bidoncini dalla SEA e abbiamo mandato una raccomandata anche alla SEA sempre per la stessa questione.